Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Lontano, questo è un Reflex Simulator 2. Allora, innanzitutto vi voglio ricordare che vi lasciate un like, di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, di attivare la campanella e di commentare in basso sotto al video se volete lasciare un commento. Allora, continuiamo il nostro viaggio in Ungheria, trascoltando il Misa, con il Vekomaginus, e vi ricordare che vi usate in un'unica, in un'unica, in un'unica, in un'unica. e vi faccio vedere il donario. Ripartiremo dall'ultima volta, dove abbiamo... Siamo qua nello scalomerci che ci siamo fermati per riportire, per fare il viaggio per l'est-Europa. Allora, incendiamo il camion. Andiamo. Ok, andiamo. Ok. 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 Questi fanno una manovra, proprio non ci vanno, no? Cienti! Una frase che ho dovuto prendere un po' con l'arca. Come dicevo qua, chi ha automobilisti e chi ha camionisti si sbattaggiavano, che non ti guarda. Si passano avanti, tac! Sparati dritti come pregi, pa! Andare dritto e poi voltare a destra. Sparati dritti andami. Armi all'inforzare il nostro canale? Sparati dritti andami all'inizio. Sparati dritti andami all'inforziamo. Sparati dritti andami all'inforziamo da l'arca. Sparati dritti eWhifti è una spra. Capra Travel? Grazie a tutti. 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 Tenirsi a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a sinistra. Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Andare a destra. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Andare a tutti. Grazie 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 a tutti. Veloci, spingiamo il motore, spingiamo i ripari e andiamo all'arma. Sauriamo che quella parte. Salva il gioco, ok ragazzi. Salva il gioco. 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 Andiamo in spariante. 1,2,1. Ok ragazzi, ringraziamoci il viaggio. Voltare a destra. E andiamo. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Salva il gioco. Salva il gioco. Saltare a destra. Un passaggio. Prendi. Si sono. Alessandro. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 tenersi a destra e poi uscire a destra uscire a destra a destra e Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. 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 Attenzione, rispettare i limiti di velocità Tenersi a sinistra Tenersi a destra e poi voltare a destra Voltare a destra Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Andare a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andare a tutti. Grazie a tutti. Tenere a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Tenere a tutti. Grazie a tutti. Tenere a tutti. Andare a tutti. , , a tutti. uscire a tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, 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 ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, attenzione rispettare i limiti di velocità tenersi a destra e poi voltare a destra voltare a destra prepararsi a voltare a sinistra voltare a sinistra prepararsi a voltare a destra voltare a destra è stato un bel viaggio ecco qua ragazzi siamo arrivati al termine aia il 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 parcheggio il 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.